La scuola Calcio Elite Polisport Nuoro stamattina in municipio ha presentato il progetto SportsRAS finanziato da Erasmus Sport che dal 24 al 31 luglio ospita Nuoro 30 giovani tra i 28 e i 25 anni provenienti da Spagna, Slovacchia, Polonia, Bulgaria e Francia che insieme ai loro colleghi di Nuoro si confronteranno sui temi dello sport nella sede operativa dell'impianto sportivo Xen Kikito Zudas di Nuoro. Per la prima volta una società sportiva di Nuoro partecipa e coordina a un progetto europeo per la promozione dello sport e del calcio ispirandosi ai valori del fair play, ai valori educativi e formativi del giovane sportivo mettendosi in rete con altri partner europei. SportsRAS è un progetto che la Polisport ha voluto fortemente, è un progetto europeo, c'è il programma Erasmus sulla mobilità giovanile e da qualche anno Erasmus finanzia anche le attività per quanto riguarda la mobilità giovanile sul tema dello sport. Noi grazie all'aiuto dell'associazione Minevaganti di Sassa gli siamo riusciti a presentare il progetto l'anno scorso, anzi due anni fa, l'anno scorso non è stato possibile farlo a causa Covid, quest'anno invece pur rispettando tutte le prescrizioni e i controlli giustamente che devono essere effettuati siamo riusciti a portare a Nuoro 25 ragazzi in rappresentanza della Spagna, della Slovacchia, della Polonia e della Bulgaria. E insieme alla delegazione dei ragazzi sportivi di Nuoro stanno lavorando tutta la settimana sul tema dello sport, non il tema dello sport come performance sportiva ma il tema dello sport come comunicazione, come integrazione, come capacità di produrre nuove idee da parte dei giovani. Quindi noi siamo facilitatori di questo gruppo, è un gruppo molto interessante, un gruppo che si è unito e coeso nella giornata di avvio, cioè di ieri che era una domenica e continuerà in questi giorni a lavorare al campo, al nostro impianto sportivo di Kikito Sud, da Zimbiale Costituzione, per arrivare a promuovere delle attività insieme. La Polisport in questo campo è antesignana, è quella che vuole aprire un percorso e dire a tutto il movimento sportivo di questo territorio che si possono fare progetti di Erasmus Sport e portare giovani europei a Nuoro.